Amici di Facebook, benvenuti con Begolino TV stiamo per fare un altro tutorial con due speaker d'eccezione non più la strana coppia che ha fiaccato le scatole, ma Alex e Fausto Peppo della poltrona per due, Begolini e fra l'altro anche con lo stesso Begolino che ha già preso confidenza ragazzi e il marchio lo può mettere giù adesso il marchio ecco perfetto mettilo giù ecco il marchio mettete il dito indice in erezione così lo so che non mi capita da anni però lo so questa direzione diversa io non ci volevo venire oggi, non ci volevo venire, tu che mi hai trascinato tu direzione orizzontale adesso il Begolino però me lo devi portare leggermente avanti così staccate andate indietro con il braccio così caricate caricate il braccio così ok poi attenzione perché il movimento dovrebbe essere questo quando partite con il movimento mi pronunciate più volte Begolino 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 dal momento in cui toccherete Begolino staccherete il tutto e direte se starete meglio rispetto a prima ok 3 2 1 vai Begolino 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 ragazzi che soddisfazione sento proprio è buono qui è buono qui no fermati è buono mi sento una persona migliore vado a far del bene dopo aver fatto ecco perfetto il marchio per chiudere con Begolino tv attenzione è la siga questa ma che schifo Begolino 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 Be